Perché mentre ci si dibatte su sanità pubblica e accreditata, i dati parlano di pesante situazione per i ricoveri in mobilità passiva. Alla sola Lombardia il Molise paga un'operazione oltre 18 mila euro. E torniamo a parlare di sanità anche perché lo spunto ce l'offre il quotidiano della sanità a livello nazionale con quel che è il valore economico del ricovero per ciascun ammalato e che va anche in altre regioni ma anche in quella del Molise. Un dato sintomatico perché solo con la Lombardia il Molise paga 18 mila 265 euro per costo di posto letto in pratica per ogni paziente perché sono naturalmente casi specifici e casi anche di prestazioni elevate ma comunque la cifra anch'essa è elevata così come per Trento e addirittura anche con la Valle d'Aosta di 11 mila e 900, circa 12 mila euro per operazioni. Ecco abbiamo solo un ritorno da parte del Molise invece per la cosiddetta mobilità attiva per coloro che vengono in Molise di 37 mila e 957 euro per operazione proprio dalla Valle d'Aosta ma abbiamo anche i 10 mila e 800 del Friuli Venezia Giulia che deve alla regione Molise ma anche i 7 mila euro e i 6 mila euro delle regioni Lazio-Abruzzo e 6 mila euro anche della Campania. Che cosa significa tutto questo? Beh significa quello che stiamo dicendo da un po' di tempo a questa parte di dare forza a quelle che sono le eccellenze delle prestazioni abbiamo visto il quotidiano Sanità a livello nazionale riporta e sottolineando i casi di Neuromed in maniera specifica e della Cattolica e poi invece la regione Molise che continua con la mobilità passiva ovvero sia di coloro i quali sono costretti ad uscire fuori dalla regione per potersi operare o per poter avere soluzioni di casi più complessi. È chiaro che sono dati che parlano da soli, sono dati che dovrebbero far riflettere sulla necessità di andare a riposizionare diciamo fino alla nausea il cittadino al centro del servizio sanitario regionale perché è quello che conta tutto il resto la lotta di dirigenti medici di primari o facendo funzione di primari non interessa a nessuno men che meno alla gente che ha la necessità di poter trovare una cura nella regione. Questi dati parlano, sono sintomatici, abbiamo visto che per andare in Lombardia la regione Molise spende 18.265 euro per paziente e è chiaro che invece sulla mobilità attiva la si ha proprio per queste strutture accreditate e private ma è chiaro che questo ora va ampliata questa rosa per queste strutture con la possibilità che anche per i molisani possano usufruirne e beneficiarne maggiormente. Budget, non budget, questo non interessa più a nessuno perché uno quando ha una patologia beh certo non può andarsi ad imbattere o sapere se c'è il budget per i molisani oppure i molisani sono costretti a dover andare fuori ma poi la regione molise deve pagare queste cifre che vanno a detrimendo dei servizi e delle prestazioni che invece il sistema sanitario regionale dovrebbe assicurare al cittadino molisano.